eseguire rituali di bellezza è un passaggio veramente fondamentale durante i trattamenti in cabina la tua estetista di fiducia andrà a lavorare sull'inestetismo creando un trattamento d'urto ma i trattamenti si svolgono solo un'ora massimo due ore alla settimana un po poco per stimolare i processi di rinnovamento e rigenerazione del corpo e di riequilibrio ed è per questo che è importante a casa continuare a fornire quelle sostanze che portano a migliorare delle funzionalità i nostri rituali domiciliari sono strutturati in modo semplice in sole 5 mosse ti consente di fare la tua beauty routine e di ottenere dei massimi risultati perché chiamare il giardiniere ma non innaffiare tutti i giorni il nostro giardino non porta gli stessi risultati